del chitarrista dei Lonely Boys, allora cosa succede? è caduto anche il plettro, un disastro, com'è il business? buono, buono tutti belli caricati, voi siete i primi che uscirete questa sera? sì, siamo i primi ho visto dalle prove che siete belli potenti, eh? potentissimi come va? cosa vincete o perdete stasera? primi, in assoluto anche se poi non è che si vinca o si perde, è già un bel risultato di essere arrivati in finale ah, questo qui il cantante, mi chiede cosa c'è? è in palio in palio? coppe, medaglie, targhe, champagne, di tutto soldi, soldi in futuro, luminosissima carriera non puoi, Rupert, non hai detto che mettevi un premio in denaro? in denaro? chi lo metteva in premio in denaro? io no, no, non scherziamo casomai mi faccio pagare queste interviste, anzi, è vero che mi faccio pagare queste interviste sì, infatti stavamo contrattando quella cambialina no, contrattavamo dischi rari, cos'è che mi offrivi prima? ed in Hot Rods, dal vivo al marchio il 9 luglio del 76 un EP con quattro pezzi, tutte cover ah, niente male, questo mi viene bene e tu invece stavi parlando di una registrazione di concerti di Gip Hop a Pesano, eh? a Pesano, nell'80 ah, è un bel concerto nelle Marche nelle Marche, perché nessuno sa dove siano le Marche, o più o meno siamo a questo livello e allora diciamo dove siamo, dove sono siamo all'altezza del 44esimo parallelo oh, tutto a posto ricordiamo che non i boys vengono da Porto San Delfidio, provincia di Ascoli Piceno giusto, perché siete al confine tra Macerata e Ascoli Piceno c'è sempre la confusione, eh? esatto, esatto batterista, com'è? eh, bene, bene tutto bene? tutto caricati eh, ti vedo che sei già con le bacchette in mano, i tamburi non ci sono, però sono tutti sotto ok, ragazzi, a questo punto io vado alla caccia dei Savage Circle, che erano qui i Savage Circle saranno eh, ospiti, grazie, grazie ai Lonnie Boys in bocca a lui